Che cos'è Flower Burger? Flower Burger è la prima catena al mondo a vendere hamburger vegani e colorati. Nel mio piccolo ovviamente io che cosa ho fatto? Ho pensato a questa cosa qua e quindi ho detto come faccio a creare un mercato che non esiste, a creare un bisogno che non esiste, però so che se riuscissi a fare una cosa del genere posso tirar fuori un prodotto e la gente non ha modo di comprarlo, perché qual è il costo di un hamburger vegano colorato? Boh, perché non esiste. E quindi ho la possibilità di uscire sul mercato e mettere il mio prezzo. Arriviamo appunto all'anno prossimo. L'anno prossimo abbiamo chiuso un accordo di master franchising con un partner su UK e quindi apriremo una serie di locali su UK e poi ne apriremo altri due in Francia e dovremmo chiudere anche un accordo per la Svizzera. Ti lancio qua la sfida, ti dico già che su Londra di trovarmi un'altra idea delle tue. Che costa poco, costa poco. Direi piuttosto bravo, io farei un bel applauso. Grazie. 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 Grazie.